Ragazzi buon lunedì e prepariamoci a fare due chiacchiere su un tema non proprio allegrissimo oggi perché vorrei discutere un attimino delle parole di Sarri e non solo delle sue perché ieri dopo dopo la festa diciamo che sono state dette parole che mi hanno fatto riflettere credo che dovrebbero far riflettere un po' tutti sia per valutare un po' ciò che è stato e per iniziare a pensare a ciò che sarà allora ieri dopo appunto la festa sono stati intervistati un po' giocatori staff eccetera e hanno parlato Luis Alberto e Sarri oltre che Milinkovic perché vorrei parlare anche di Milinkovic partiamo da Milinkovic allora Milinkovic sappiamo bene che sta andando in scadenza sappiamo bene che ormai si parla solo del suo possibile addio perché si dà per certo l'addio già si vocifera di offerte contro offerte d'essere senza però lui ieri davanti alla telecamere ho recuperato poi le varie interviste di tutti per sentirle proprio di mio orecchio ha parlato del fatto che il piano era quello di vedersi a fine campionato per parlare quindi ha detto praticamente dopo la partita con l'Empoli ci incontreremo e parleremo io nelle sue parole non ho visto una persona determinata ad andarsene una persona che sicuramente lo sta valutando con serietà e con piena consapevolezza anche perché appunto non ha neanche se vogliamo la pressione della piazza che può in qualche modo alterarne la lucidità no? lui sa bene che qualunque sarà la sua scelta noi la sposeremo magari con dolore ma la sposeremo perché comunque è andato tanto a sta società per cui è a questa maglia e non gli si può dire niente qualunque sarà la sua scelta e nel mio piccolo lo confermo anch'io ecco non riuscirò mai a avercela con lui a meno che non dovesse veramente comportarsi male ma non ce lo vedo ecco però parole che sembrano tenere uno spiraglio aperto e io ho sentito le parole di Miracucci peraltro sono state le prime che ho recuperato ieri notte ho detto vabbè dai so io che mi sto a fare i film è inutile che mi illudo non devo vedere spiragli dove non ci sono primo punto poi il puzzle si prenderà forma quando arriverò alla fine poi sento Luiz Alberto e Luiz Alberto fondamentalmente chiudendo con il presidente Sa ha fatto intendere che la sua permanenza non è scontata così come non è scontato il suo addio e ripeto in qualche modo ha lasciato intendere che il suo addio o la sua permanenza dipenderanno da dipenderanno da questo è il messaggio di fondo che si respirava un po' dipenderanno da allora tu pensi a Milenkovich che dice ci sederemo e parleremo di cosa? lui Luiz Alberto dice il mio addio cioè dipenderà da e poi senti Sarri allora Sarri ha fatto una serie di dichiarazioni importanti ha parlato di essere arrivato alla Lazio con un stipendio molto più basso rispetto a quello che avrebbe avuto altrove per un progetto per un'idea per per qualche cosa che lo ispirava il concetto dell'intervista è quello ha parlato del fatto che per lui Coppa Italia e Supercoppa non sono all'apice del suo interesse come possibili obiettivi questo facendo riferimento alla Supercoppa Final Four che ci sarà adesso in altro modo per allungare le varie cose ma ha parlato appunto di un'ambizione diversa che condivido in pieno ma la cosa più importante è che ha detto alla fine se riesco a recuperare le dichiarazioni precise ecco non ho nessuna intenzione di lasciare la Lazio ma neanche di fare cose che non mi stanno più bene chiudendo poi con queste eventualità molto remote eccetera eccetera però di fare cose che non mi stanno più bene e qui il puzzle si completa con queste parole Sarri ha fatto capire con grande chiarezza di essersi dovuto adattare in questa stagione e non è che è una mia interpretazione basta vedere la stagione uno che si è dovuto inventare un attacco sempre diverso per ovviare alla mancanza di un centroavanti di riserva che è quello che ci ha tagliato le gambe in Europa perché adesso che si fa tanto chiacchierare di un Sarri ah la colpa dell'Europa è colpa dei Sarri ragazzi se Sarri non avesse fatto le scelte che ha fatto noi in Champions League ci arrivavamo ecco se siamo capiti bene quindi poi possiamo discutere e tanti sicuramente potranno avere idee diverse dalla mia possiamo discutere sul sarebbe stato meglio vincere la Conference o andare in Champions League per un progetto di crescita io mi piglio la Champions League sinceramente io perché mi piace di più come prospettiva avrei voluto fare entrambe le cose ma la botte piena la moglie embriaga difficilmente si possono avere dunque ha fatto una scelta condivisibile o meno ha impostato una stagione in quel modo per poter centrare un obiettivo secondo lui più intrigante si può condividere o meno ma ha fatto una scelta e apprezzo chi fa delle scelte ecco diciamo la determinazione la decisione la rispetto ecco magari posso anche non condividere la volta in questo caso si ma posso anche non condividere la ma la rispetto questa scelta è stata questa decisione di dover lottare su un fronte è stata obbligata ragazzi perché la squadra è come abbiamo visto ieri mentalmente non proprio matura ed è una squadra che negli interpreti è molto corta negli interpreti che sono adeguati e funzionali al gioco della squadra perché come abbiamo visto Marco Santoni è sicuramente un giocatore interessante ma in quel centrocampo non c'è posta abbiamo visto che Ciro è sicuramente imprescindibile ma a volte non sta bene e se non c'è lui non c'è nessuno insomma tutta una serie di cose che hanno costretto Sara a fare delle scelte e regà a inizio stagione io non mi ricordo cosa dissi della Lazio ma non mi pare di aver previsto il secondo posto e credo di essere stato fra i più ottimisti credo di aver detto tipo quinto poi recupererò il video a fine stagione poi al solito ma tutti cedavano per quinti sesti settimi no adesso tutti quanti che si fanno un po' st'autoconvincimento della vabbè però alla seconda perché le altre stavano a dormire fammoli parlare fammoli parlare tutti quanti la verità è che Sarri al netto di tutti i difetti del mondo che può avere ha fatto un miracolo sportivo perché sta squadra seconda neanche nei più erotici sogni che uno può avere no poi magari arriveremo terzi non me ne può fregare di me siamo arrivati in Champions League ecco già sta nei primi tre posti era utopia inizio stagione e alla fine è diventata realtà perci da famoso venditore di case ma ma la sostanza è tornando a noi non non ci sto più a fare quello che non mi sta bene quello era il senso delle parole c'ha ragione cioè andare andare in Europa adesso per fare quello che la Lazio ha sempre fatto nell'era lotito cioè sali scendi sali scendi non ci sta ma c'ha ragione e io temo che il concetto espresso con enorme chiarezza e trasparenza da un uomo che andrebbe portato in palmo dei mani rispettato da chiunque poi magari ti può non piacere ma andrebbe rispettato da chiunque dovrebbe sarà probabilmente lo stesso di Luis Alberto Emilinkovic cioè della serie caro presidente ti scrivo fammi una squadra come se deve che possa effettivamente concorrere per qualcosa di interessante e io resto qua Emilinkovic è arrivato a un'età tale che sì l'amore è quello che ti pare però no è un giocatore di un tale livello che sa benissimo di poter andare a giocare in squadra che io che vado alla Juventus non ci credo neanche se lo vedo con i miei occhi perché che lui lasci la Lazio che va a fare la Cep spannare la Juve che va a fare la Conference la vedo una cosa abbastanza improbabile nel breve poi magari ci va ma nulla contro la Juventus è semplicemente un discorso di logica vai via perché vuoi andare a vincere qualcosa nel breve la trovo una cosa difficile viste anche le questioni risolte che potrebbero portare a situazioni non proprio rose quindi leviamone una però il concetto è uno due tre tutti dicono la stessa cosa allora il vero problema di questa squadra il vero problema per cui tanta gente io sono il primo a essere preoccupato della Lazio che verrà per la Champions perché se poi dovessi rimanere tale e dare seguito a quelle meravigliose parole del cercheremo di fare un paio di acquisti cercheremo no ecco io torno mi è rimasta qua cercheremo è chiaro che dovrebbe che io a quel punto a quel punto sarei d'accordo con Milinkovic che va via sarei d'accordo con Luisa Alberto che se ne torna in Spagna e potrei accettare potrei accettare potrei comprendere anche un eventuale addio dei Sarri ora la domanda è che succede se vanno via Sarri Milinkovic e Luisa Alberto Lotito potrà anche essere arrogante potrà anche essere quello che vogliamo fermo tutte le sue idee però non voglio credere che sia che arrivi a tanto che per difendere il punto sia disposto a far come De Laurenti scospalletti ecco che poi pure lì ci sarebbe da parlare parecchio ma non conosco i fatti purtroppo ma sarei tanto curioso cioè che fai dopo una stagione come questa fai andare via Sarri fai andare via tutti cioè che poi Sarri l'ha fatto capire che che il discorso non è solo quello di comprare ma anche quello di tenere perché se tu mani via Milinkovic e Luisa Alberto e compri due che so simili sempre con quei contati stai non sei cresciuto di una virgola ma poi va la pia uno come Milinkovic da un'altra parte dove trovi boh e soprattutto poi adesso vendendo Milinkovic ce fai quanto 40 milioni se ti dice bene perché in scadenza chi ti dà per andare a prendere un altro che ti costa la stessa cifra e che vale la metà allora io io personalmente per come sono fatto se fossi il presidente di una squadra tendenzialmente andrei da Sergio con un bel libretto d'assegni gli direi Sergio prendi prendi ecco dice ma in bianco appunto scrivici te quello che ti pare poi mi fai sapere ciao e me la andavo per dire eh per dire perché se tu vuoi effettivamente fare un percorso di crescita i sordi devi dire a fuori se i sordi incellai quello è il concetto adesso io mi permetto di fare queste riflessioni pur non essendo proprio finito 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 il campionato perché è finito tocca capire se arriviamo terzi o secondi ma è finito quindi già possiamo iniziare a introdurre un po' gli argomenti da te che appunto pure Sarri si è permesso di parlare in maniera un po' più lapidaria però sono dichiarazioni forti ragazzi forse non gli viene data la giusta risonanza per il momento e non c'è grande interesse nell'andare a interpretare ma il concetto è quello e accomuna tre delle figure più importanti di questa Lazio io se l'anno prossimo dovessimo ritrovarci senza Sarri mi ricco il servizio Alberto a me mi hai trovato in un angolo per strada da qualche parte a piagne perché cioè no no ragazzi ritrovarmi con ma per carità di Dio non ci posso manco pensare no quindi questo è ragazzi la situazione è delicata cioè noi adesso credo che il destino ci abbia condotti al momento della verità cioè sliding doors ragazzi mai come in questo momento sliding doors che succede adesso cioè ora lo tito è chiamato mai come in questa questa volta forse per la prima volta è chiamato a fare delle scelte importanti perché sulla panchina non ci stanno più gli yes men adesso adesso tra giocatori e staff c'è gente che se non fa quello che deve essere fatto te saluta te ringrazia e pianta un casino perché poi Sarri non credo che se dovesse mai andar via e dimettersi lo farebbe conservando il silenzio ma meno male che finalmente c'è sta uno con le valle perché poi a un certo punto quindi voglio dire io ripeto non non voglio pensare al peggio però siamo effettivamente di fronte a un meraviglioso bivio da una parte c'è l'effettiva crescita del progetto l'effettiva crescita del progetto con un rafforzamento e una conferma dall'altra parte c'è un ritorno all'ublio alla canonica alla canonica situazione del entri per uscire per poi rientrare per uscire per poi rientrare per uscire che io personalmente non voglio di vivere non voglio di vivere perché vorrei che Lazio effettivamente iniziasse a fare un percorso abbiamo avuto la fortuna di poter beccare un allenatore di altissimo profilo che ha trasformato l'acqua in vino quest'anno ragazzi perché chi dice il contrario ripeto lo invito ad essere un po' più lucido perché pensare che sia cioè adesso a me la cosa mi manda il manicomio poi è che allora all'inizio stagione la Lazio era dipinta come una squadra di poveri disgraziati incapaci di intendere di volere che erano destinati avendo alla guida un incapace a fallire miseramente ora che siamo arrivati secondi o terzi tutti quanti che celebrano un traguardo che però in fondo era scontato perché la Lazio è uscita dall'Europa e quindi ma non vi fate portare in giro tipo tipo il cavallo cacarota perché veramente cioè quello che è successo è oggettivamente un miracolo sportivo perché con la squadra voi prendete 100 allenatori 99 arrivano sesti 99 non c'è 99 dunque credo che sarebbe opportuno anche dare a Cesare quel che è di Cesare riconoscere il valore di un uomo che il lavoro suo lo sa fare lo sa fa bene poi può non piacere per boh sta sul cazzo quello che ve pare però il lavoro suo lo sa fare e quell'uomo anche per il modo in cui si pone per il modo in cui difende l'ambiente per il modo in cui tutela la gente la ziale andrebbe difeso con lunghe e con i denti fino alla morte ma comunque ripeto io poi c'ho una mentalità di un certo tipo sulle persone e gli uomini gli uomini trasparenti gli uomini diretti e chiari li vorrei sempre intorno in qualsiasi ambito in qualsiasi contesto in qualsiasi momento della mia vita a prescindere poi magari dalla simpatia o antipatia che posso provare ma le persone vere sono preziose e soprattutto quelle che in qualche modo anche si fanno carico di tante responsabilità non proprie cosa che Sarri ha fatto più di un'occasione quindi ragazzi io niente per adesso vi saluto voleva essere così una chiacchierata tanto per anche per tirare fuori un po' di cose ne riparliamo ci vedremo in settimana tanto gli argomenti penso non mancheranno vi discute un po' e ragazzi ma niente sempre forza Lazio e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti.